Molto spesso mi sento urlare anche io, come ti vesti, non mi dispiace affatto perché credo di avere uno stile piuttosto personale, uno stile mio nel quale mi sento bene. Molto spesso mi limito nell'urlare, ma come ti vesti, agli altri nel momento in cui mi rendo conto che quell'abito, nonostante esteticamente probabilmente non è appagante, non mi piace, ma sta bene a quella persona, lo porta bene con disinvoltura. Significa che io sto bene vestito così, questo è incriticabile, non è facile, quindi nel momento in cui tu hai trovato la tua personalità e il tuo stile e non fai errori del tipo la taglia è giusto, il momento in cui lo indossi è giusto, non vai al supermercato con l'abito, con lo strascico per intenderci, ok? Non mi permetto di criticarne la bellezza perché quello poi può essere soggettivo e lì voglio chiudere un occhio, ma ci devono essere tutte le altre caratteristiche. In ogni caso, ritornando al mio discorso, ho trovato uno stile che mi fa star bene, fondamentalmente questo, anche con un pizzico di ironia.